buona giornata bentrovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 15 marzo 2024 prima di leggere i giornali diamo un'oggiata a quello che inizia la giornata a passare per il santo del giorno e poi anche per le previsioni del tempo e vediamo subito che si festeggia oggi eccola qua è una santa francese si tratta di san luisa di mariac san luisa è un nome luisa è un nome ancora molto molto attuale ci sono tante persone che hanno questo nome quindi auguriamo subito la festa per il loro ma siamo tanti auguri per il loro onomastico e chi era santa luisa ebbene santa luisa fu una santa che visse nel diciassettesimo secolo e incontrò molti santi durante la sua vita altri santi furono san francesco di sales e poi anche vincenzo de paoli ebbene con quest'ultimo fondò la congregazione delle figlie della carità ebbene luisa con questa istituzione soccorse molti poveri ammalati si occupò si occupò degli anziani dei ragazzi abbandonati dei galeotti si dedicò alla preghiera e all'apostolato è stata santificata da papa pio undicesimo nel 1934 ed è considerata una santa molto molto attuale per il modo con cui abbracciò la fede ma soprattutto per il modo con cui operò rese testimonianza alla sua fede santa luisa de mariac vediamo ora le previsioni del tempo ebbene oggi sono lieto di annunciare che il tempo è buono su tutte le marche tempo stabile e in tutta la regione con nubi medio alte in aumento però verso sera le temperature massime tra 15 e 20 gradi la minima si è testata a 10 si stiamo avvicinando un po le temperature primaverili i venti venti sulle coste con una tensione debole da ovest nord ovest mentre nell'interno da ovest sud ovest il mare è calmo leggermente mosso insomma niente di particolare e il sole il sole è sorto alle 6 e 21 anzi alle 6 19 e tramonterà alle 18 e 13 si stanno allungando leggermente anche le giornate ebbene allora guardiamo i giornali a partire oggi dal resto del carlino dove vediamo un articolo di cronaca all'inizio di pagina in apertura eccolo qua umiliazioni e offese al marito messa al sicuro il carlino oggi racconta una storia di una fanese che è stata salvata grazie all'intervento dell'associazione di volontariato alba rosa alba rosa è un'associazione presieduta dal ex comandante della stazione dei carabinieri di fano barrasso e da altri volontari che si dedicano appunto all'assistenza delle persone vittime di violenze in modo particolare delle donne e questo è un caso che oggi si pone in un momento particolare perché questa mattina verrà inaugurata all'interno della caserma dei carabinieri la stanza dedicata appunto a queste donne a queste donne che vogliono denunciare che vogliono parlare con i carabinieri e sono vittime di violenza di soprusi da parte dei loro compagni dei loro mariti ebbene questo è un caso particolare che racconta il resto del carlino si tratta di una 47enne il nome che viene usato bea è un nome di fantasia ovviamente per tutelare la privacy della donna vittima a due figli e da un anno un marito che non perde occasione per umiliarla ed offenderla sei un incapace fai schifo non sei capace di accudire ed educare i figli ed è ritenuta responsabile di ogni piccolo errore insomma la vita era diventata insostenibile con questa convivenza ed ecco perché questa donna ha avuto il coraggio di parlare soprattutto di parlare con questa associazione che è un ombrello di tutela per tutti coloro che hanno bisogno di esprimere quello che sta accadendo ed è importante farlo perché poi se le cose si incancreniscono può accadere l'irreparabile le suggeriamo di allontanarsi dalla casa dove vive ha detto Barrasso lui al piano terra lei al primo piano con i figli ma non può andar via di lì perché i figli che vanno a scuola e uno è prossimo al diploma ha genitori anziani dai quali non può allontanarsi insomma questa convivenza ancora è difficile da risolversi però insomma alla fine si è riusciti a parlare anche con il marito e sembra che il marito abbia accettato una separazione consensuale la quale è già in itinere lui non ha manifestato al momento né violenza verbale né fisica e sta cercando una soluzione abitativa improprio sembra che dunque il marito sia arrivato a più disponibili ragioni diciamo così al fine di risolvere questa questione ma è importante ritornarci vediamo anche l'articolo a fondopagina del resto del calino si parla di Aset che ha preso un provvedimento per quanto riguarda i contatori dell'acqua dei condomini vi ricordate in passato quando c'erano degli utenti morosi ai quali l'Aset chiudeva l'acqua ma essendo il contatore centralizzato venivano penalizzati anche coloro che pagavano che purtroppo però lo avevano il rubinetto chiuso ora si tratta che l'Aset è riuscita così a risolvere il problema realizzando dei contatori singoli utenze singoli nei condomini è appunto il titolo che appare e questi problemi che in passato si sono creati e hanno suscitato diverse proteste non dovrebbero più accadere vediamo ora invece questo articolo importante perché l'amministrazione comunale ha deciso chi sono i beneficiari del premio La Fortuna d'Oro per l'anno 2022 e l'anno 2023 ed eccolo lo vediamo subito dal titolo La Fortuna d'Oro in Corona, Toffoli e Falcioni Toffoli, Paolo Toffoli, il campione di volley, il grande alzatore di una stagione fortunatissima per la nazionale italiana ha vinto veramente il titolo del mondo e poi Falcioni, ma chi è Falcioni? Sono molti che hanno questo nome ebbene la premiata è una donna ed è Anna Falcioni presidente del centro studi malattestiani la donna che ha rivalutato il Medioevo fanese prima un po' in secondo ordine rispetto alla romanità ora invece è una realtà importante, prestigiosa perché anche nel Medioevo Fano ha conosciuto un periodo di grande splendore grazie ai malattesti ebbene è inutile ricordare Pandolfo III Malattesta signore di Fano, di Bergamo, di Brescia uno dei capitani di ventura più importanti d'Italia trattava la pari con le famiglie più note a livello della penisola ma anche Galeotto I di cui ha rievocato un grande banchetto proprio nei giorni scorsi durante la settimana della cultura e poi insomma tutte le vicende di Sigismondo Pandolfo la chiesa di San Francesco veramente, ma soprattutto anche i codici malattestiani che sono il grande tesoro che Fano custodisce oltre 100 libri dove ci sono le registrazioni contabili che evidenziano tutta la vita sociale, culturale anche guerresca della signoria dei Malattesta nel XIV secolo dunque la fortuna d'oro in corona Toffoli e Falcioni l'attribuzione del premio è stata fissata per giovedì prossimo giovedì 21 marzo alle ore 21 al Teatro della Fortuna ingresso libero fino ad esaurimento dei posti il riconoscimento è istituito nel 1982 su input del compianto Valerio Volpini con l'obiettivo di esprimere pubblicamente la riconoscenza dell'intera comunità fanese a coloro che hanno reso diciamo così famoso il nome di Fano a livello anche internazionale sono state 18 le candidature giunte quest'anno c'è stata una commissione che ha selezionato appunto le candidature e alla fine è stato deciso con queste due personalità di spicco dunque andate a teatro giovedì 21 alle ore 21 l'ingresso come detto è libero e quindi sarà una bella serata un incidente sul lavoro è capitato l'altro giorno a Fano in un stabile in un palazzo in via di ristrutturazione vicino all'incrocio tra l'interquartieri e via 4 novembre un giovane di 34 anni è caduto da un ponteggio che stava allestendo si è fratturato le costole, le vertebre, è stato ricoverato con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona è in gravi condizioni ma non sembra che sia in pericolo di vita ebbene è insorto a questo proposito il sindacato la filea CGL con il segretario generale Giuseppe Lograno che ha diffuso una nota proprio ieri dicendo che il sindacato è vicino al lavoratore che ha avuto un grave infortunio appunto cadendo dall'impalcatura e ormai ha così incalzato sul grido di allarme per quanto riguarda il succedersi di questi infortuni anche nel nostro territorio e pensate che proprio l'altro giorno a livello nazionale 4 persone sono morte in incidenti sul lavoro questa volta per fortuna questo giovane di 34 anni non è in pericolo di vita però insomma le sue situazioni sono veramente gravi continueremo la nostra mobilitazione ha detto Lograno con uno sciopero di due ore che è stato già fatto il 21 febbraio ma continueremo ancora con altre iniziative per sensibilizzare sia le istituzioni ma anche il pubblico alla gente normale di fronte a questo grande grande problema e allora parliamo di un grande nuovo lutto dopo la morte di Vincenzo Minardi oggi abbiamo un altro personaggio che se n'è andato un altro personaggio molto noto a Fano si tratta di Luigi Ferri che è stato per tanti anni presidente della società Fano Unfortune che gestiva l'aeroporto un uomo che si è impegnato tantissimo per valorizzare l'aeroporto fanese per cercare di realizzare la pista in cemento per dare un servizio nuovo alla città ed era un avviatore un avviatore che volava con il suo velivolo andava in tanti tanti paesi e propagandava il nome di Fano perché l'aeroporto di Fano è un gioiellino posto a metà della penisola che viene fatto tappa di tanti tanti passaggi aerei che magari sorvolano tutta la penisola e hanno bisogno dei servizi carburante, soste e via dicendo ed è una risorsa economica che ha un addentellato anche con tante altre strutture della città il mare, gli alberghi e se ci fossero anche le terme Cordoglio è in città per la morte di questo noto imprenditore che poi è noto imprenditore anche per una ditta che ha lanciato e di cui proprio l'anno scorso si sono celebrati 70 anni di attività una ditta di trasporti che opera appunto nei pressi dell'aeroporto di Fano i suoi funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di San Paterniano a Urbino a Urbino si rinforzano le apparecchiature sanitarie per quanto riguarda l'ospedale apparecchiature tutte nuove per rianimazione e il primario esulta abbiamo disposizione degli spazi sia per gli infettivi che per gravissime criticità ebbene il reparto di rianimazione dell'ospedale di Urbino diretto dal dottor Paolo Brancaleoni ora dispone di nuovi respiratori e attrezzature al letto grazie a donazioni e investimenti per consentire appunto al nosocomio di avere una maggiore disponibilità una maggiore risposta alle esigenze degli ammalati la ristrutturazione del box per l'isolamento ha spiegato la direttrice della AST Nadia Storti permette di garantire un livello superiore di assistenza ai nostri pazienti incluso il supporto necessario per quelli in isolamento quindi una prestazione maggiore e di qualità per quanto riguarda gli ammalati che fanno riferimento all'ospedale di Urbino ed ora vi voglio segnalare questo articolo perché quando si tratta di queste azioni di cui adesso vi parlerò si tratta veramente di carognate perché quando si si inferisce su degli animali che in realtà non hanno fatto nulla di male ebbene la cosa è molto brutta bocconi avvelenati destinati al cane salvato per un soffio dalla padrona è accaduto a Piobbico il fatto rivela che Zagor questo è il nome di un bellissimo cane un mare in mano è ancora ricoverato in ambulatorio Zagor racconta la sua padrona è sempre stato docile vive con me da sei anni mercoledì in pieno giorno è stato avvelenato all'interno della mia proprietà l'ho adottato circa sei anni fa dal canile la sua vicinanza mi ha salvato dalla depressione non è un semplice cane ed è stata la ragione per me di continuare insomma a sperare in un futuro migliore ecco quando la petterapia cioè voglio dire la vicinanza di un cane l'affettuosità di un cane può dare un input maggiore a una persona e cercare di avvelenarlo veramente è stata una carognata per fortuna il cane sembra che si salvi e non morirà perché poi è stato soccorso in tempo per quanto riguarda invece le pagine pesaresi il resto del calino apre con Aurora e quindi siamo a livello della discarica di riceci Aurora carica a testa bassa cacciate pacchiarotti rivogliamo Bartoli per decidere su riceci è un'incredibile nuova azione fatta da Aurora che per la seconda volta ricorre al TAR ricorre al TAR con lettere a regione e provincia è soggetto alla politica possono partire cause civili contabili e penali hanno dichiarato ebbene ci sono continue esternazioni a questo proposito sulla stampa che manifesta la contrarietà verso l'opera che invece è di interesse pubblico si dice in questo trafiletto voglio anche segnalarmi un'altra notizia che si riferisce alla protesta dell'agente di Soria variante meno cubature viabilità più sicura ebbene mentre i residenti hanno già raccolto 800 firme contro questa variante il consigliere dall'asta traccia la sua ricetta due comparti invece di quattro e quanto propone appunto dall'asta però insomma c'è stato veramente una situazione che ancora non si è risolta per quanto riguarda questa variante di Soria che non viene ora alla luce perché c'è una forte opposizione da parte dei residenti ed ora apriamo il Corriere Adriatico vediamo l'apertura sulla pagina di Pesaro è dedicata alla crisi idrica e dalla siccità ebbene è emergenza ormai alle porte ebbene se anche d'inverno si riscontra una penuria d'acqua che cosa potrà accadere d'estate cioè anche questo inverno è stato un inverno mite è stato un inverno scarso di pioggia e quindi le falde idriche insomma sono un po' non dico a secco però insomma sono in una situazione di povertà e allora che cosa accade? c'è la prospettiva quello di rendere più capienti gli invasi della nostra provincia i tre maggiori invasi sono quelli di Ponte degli Alberi quello di Fossombrone e quello del Furlo ebbene secondo i progetti della Regione Marche questi tre invasi avrebbero dovuto essere escavati perché sono ormai riempiti fino al 50% di detriti per contenere ancora maggiore acqua in realtà la quantità d'acqua contenuta da questi tre invasi tutti insieme ammonta poco 2 milioni 800 mila metri cubi a fronte di 33 mila metri cubi della diga di Ridracoli e di 40 mila metri cubi 40 milioni di metri cubi per quanto riguarda l'invaso di Macerata 2 milioni 800 mila non sono non sono molti però insomma è una piccola riserva che può far comodo in modo particolare durante i mesi estivi ebbene la regione aveva in mente di effettuare i lavori di ripulitura di questi invasi nel mese di giugno ma se poi questi invasi non sono disponibili per la siccità estiva che cosa può accadere? ed ecco perché i tecnici di ASET così come quelli di Marche Multiservizi hanno detto no facciamoli in un altro periodo allora quando farli? Farli in autunno ma se poi arriva un'ondata di piena che cosa accade nel mezzo dei lavori e beh insomma la situazione non è affatto facile a risolversi per quanto riguarda l'ASET l'input è quello di spostarli al prossimo anno e lasciare le cose così come stanno sperando che almeno qualche goccia d'acqua in più quest'estate la faccia e poi c'è anche il problema dell'impianto di osmosi inversa che si sta allestendo è un impianto che produce 100 litri di acqua al secondo depurata dai nitrati questa è acqua di falda che però deve essere messa in funzione e attende il via libera da parte dell'ARPAM perché il residuo dei filtri una specie di salamoia deve essere mandata al depuratore attraverso una condotta e a questo proposito ci vogliono le anansini per certificare in modo opportuno per mandarla appunto al depuratore e ancora l'impianto non è in funzione ruba 1000 euro con l'abbraccio ed è stata arrestata ebbene la polizia ieri ha sgominato un trio di rumeni che faceva dei furti rubava portafogli rubava poi preziosi con la tecnica dell'abbraccio sono stati individuati mentre percorrevano via le Gramsci affano con la loro auto il modo con cui osservavano i negozi ha insospettito gli agenti i tre sono stati firmati e all'interno della loro auto è stato trovato anche un portafoglio con dei contanti 1000 euro che è la stessa somma che era sparita poco tempo prima a Pesaro ad un negozio e quindi i tre sono stati arrestati con l'accusa di furto il professore dirigente del liceo Nolfi a Polloni Samuele Giombi vittima di difamazioni di parole veramente brutte lanciate sui social ha avuto la solidarietà del suo corpo insegnante solidarietà dei docenti a Giombi no a difamazione e ingiustizia insegnanti del Nolfi difendono il presidente minacciato e offeso via chat ed email siamo profondamente sconvolti hanno detto gli insegnanti nel venire a conoscenza delle recenti calugne e false accuse rivolte a lei come membri della comunità del Nolfi ed Apolloni desideriamo esprimere la nostra più sincera solidarietà e supporto in questi momenti difficili una bella azione del corpo insegnante che mostra un attaccamento al proprio dirigente ma io oserei dire che tutta la città ha mostrato attaccamento al professor Giombi perché è un preside capace un preside disponibile un preside che sta elevando la cultura appunto dei giovani fanesi e quindi la solidarietà e l'affetto della città e degli insegnanti ma anche degli studenti al loro professore ed ora siamo a Cagli a Cagli abbiamo un bella contesa tra due candidati sindaco abbiamo Alberto Alessandri che si propone ancora come lui è sindaco come una nuova candidatura e si troverà sulla sua strada di fronte Alberto Mazzacchera Alberto Mazzacchera è un uomo di cultura già noto nel nostro territorio ebbene è stato anche anche lui un trascorso politico è stato assessore alla cultura del comune di Cagli però insomma vanta anche un ruolo di consigliere del ministro dei beni culturali nel governo Prodi insomma un uomo che è un curatore di mostre d'arte in Italia Europa e anche in Cina ebbene alle spalle ha un'esperienza veramente pluriennale all'interno del palazzo comunale di Cagli ma anche a livelli superiori e dunque il centro-sinistra gli oppone l'esperto di cultura il sindaco però tenta al terzo mandato meno mimose più difesa così si ferma la violenza abbiamo appena finito di parlare di un caso di violenza che è accaduto a Fano e qui invece siamo a San Lorenzo in campo ebbene a San Lorenzo in campo si è formato un pool di diverse situazioni che possono aiutare anche qui le donne ebbene si tratta di un pool che riguarda in modo molto pratico la legittima difesa una rete di avvocati psicologi medici palestre di arti marziali presente in 18 regioni italiane che si occupa della lotta contro la violenza alle donne sia personale che in via preventiva e quindi un pool un punto di riferimento per coloro che si sentono minacciate importante anche questo e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa come sempre vi do appuntamento domani alle 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con il TG occhio alla notizia di Fano TV grazie per lo sconto e a risentirci grazie per la notizia grazie per la notizia